Palermo riabbraccia Serena Mutieri con uno spettacolo complesso, è una prova da attrice e ardua perché Serena è Diana e Lady Di. Sì, è uno spettacolo intenso, due ore in scena con sei ballerine ma dove veramente entro in contatto con l'anima più profonda di Diana attraverso le musiche, i testi, i balletti e insomma sono contenta perché il pubblico è sempre così generoso qui a Palermo, così attento e quindi è sempre un piacere tornare. Vabbè ti vuole bene Palermo. E io voglio bene loro. Ascolta, per poter scegliere di essere Lady Di ovviamente c'è stato un lungo periodo penso di riflessione o no? Però comunque di preparazione sì. Sì, di grande preparazione più che di riflessione, di preparazione sempre ma tutti i giorni, costantemente perché poi non è solo il periodo delle prove in cui bisogna entrare nel personaggio ma è un lavoro continuo ogni giorno su se stessi per portare in scena questo spettacolo poi in giro per l'Italia e a volte combattere con i raffreddori, con le stanchezze, con i doppi spettacoli, non è così semplice ma la gioia poi degli applausi, dello spettacolo che piace e ti fa passare tutto. Cosa ti ha spaventato e cosa invece ti ha fatto piacere conoscere di Lady Diana? No, non mi ha spaventato. Mi ha creato sicuramente la possibilità, la vita di questa donna, di questa grande donna, mi ha fatto avere la possibilità di entrare in una vita che forse, che sicuramente non avrei mai potuto avvicinare comunque in ogni caso. Entrare un po' nel vissuto di una donna così di potere, così in vista come appunto Lady Diana è un percorso interessante e credo che sia a volte questo il bello di entrare in alcuni personaggi particolari proprio perché puoi vivere vite che in realtà poi non ti è concesso di fare. E l'ultima cosa, per poter fare questo bisogna essere un'attrice completa, questo ovviamente lo dico io, lo lasci dire a me, dico non tutti si possono permettere il lusso di saper recitare bene e anche di saper cantare, quindi insomma merito a te che secondo me hai una preparazione più che italiana, diciamo americana. Grazie, sei molto carino ma io ogni giorno lavoro per potermi meritare questo posto e questi bellissimi complimenti e la gratifica del pubblico che viene a vedermi, che è sempre così numeroso, insomma quindi li ringrazio e il fatto di mettermi sempre in discussione, in gioco con ruoli diversi, cercando di regalare al pubblico sempre grandi emozioni, credo che sia il mio dovere, il compito di un attore che ha voglia di fare teatro, perché il teatro si sceglie di farlo, è un grande sacrificio ma è una grandissima opportunità di crescita e appunto di poter entrare nelle case delle persone in tutte le città, di portare la propria arte.